venite a trovarci nel nostro showroom ti regna auto la piattaforma dell'auto per i calciatori della cavese la stagione di serie d appena trascorsa è stata magistrale perché al di là del fatto che il potenza ha avuto bisogno di mettere insieme 81 punti per passare davanti a tutti i metelliani hanno sempre continuato a impegnarsi anche quando il primo posto stava sfuggendo raggiungendo la quota dei 76 punti e vincendo i playoff fino a collocarsi al primo posto nella graduatoria dei club dd che potrebbero puntare al ripescaggio mister leonardo bitetto ha ricevuto offerte per tornare ad allenare in serie c una di queste è giunta dal bisceglie inoltre lo stesso bisceglie proprietario del cartellino del difensore thun lamme potrebbe integrare stabilmente in prima squadra il centrale senegalese dopo la bella stagione trascorsa proprio a cava numerosi club tra i quali il taranto avrebbero chiesto informazioni per il regista stefano manzo e per l'attaccante fabio giano ma il giocatore che potrebbe insediarsi in pianta stabile nel calcio professionistico è antonio martiniello centravanti che nel suo primo campionato da over è riuscito a farsi rispettare 19 gol per martiniello anche 7 assist per il classe 96 che oltre a essere stato bravo in area avversaria ha dato un aiuto anche alla fase difensiva degli aquilotti correndo tanti chilometri al punto da avere attirato su di sé le attenzioni del lecce che nella prossima stagione parteciperà al campionato di serie b al di là della prima squadra comunque la cavese prova a illustrarsi nel settore giovanile la juniores allenata da rocco santoro che ha vinto il girone l affronterà negli ottavi di finale la compagine abruzzese del pineto a sua volta vincitrice del girone i del campionato juniores nazionale il match di andata si disputerà a cava domani sul campo di pregiato con inizio alle ore 16 mentre la sfida di ritorno si giocherà in abruzzo sabato prossimo sempre alle ore 16 vale il regolamento delle coppe europee con i gol in trasferta che hanno valore doppio